Sul Green Act siamo in fase di ascolto, sto girando l'Italia per cogliere le migliori esperienze del nostro paese. Così il Ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti in visita a Bolzano alla sede dell'Accademia Europea Eurac. Il Ministro è stato presente quest'oggi a Bolzano per sostenere il candidato sindaco Angelo Gennaccaro della lista Io sto con Bolzano. Quanto è necessario un ricambio generazionale a livello politico? È essenziale, è essenziale un ricambio generazionale ma è altrettanto essenziale che i giovani entrino in politica con la spinta che ho visto qua oggi io nella lista di Angelo, di Gennaccaro. Perché è un modo di far politica completamente nuovo rispetto al passato. Io qua ho visto amicizia fra i candidati che si sostengono l'uno con l'altro, ho colto idee nuove anche dal punto di vista ambientale. Questa generazione, quella di Gennaccaro, ha una sensibilità ambientale molto più elevata che le generazioni che l'hanno preceduta. E ho visto voglia di fare comunità, di fare il bene della propria città. E credo che questo sia un grande valore aggiunto di cui i cittadini di Bolzano non faranno a meno. Gennaccaro